Oggi, prima dell'anno, possiamo dire passaggio di consegna ufficiale tra il direttore artistico Maestro Cussegdu e il nuovo direttore artistico del nostro teatro, il maestro Bottacini. Maestro Cussegdu, un saluto per i nostri... Un saluto a tutti, buon anno intanto, e sono felice di passare le consegne a Edoardo, che stimo molto, in un concerto così importante, appunto come quello di oggi, che è Sold Out, e sarà veramente un concerto importante. E maestro Bottacini, un suo augurio è ben arrivato. Auguri a tutti, un grazie a Luigi, ci sarà sicuramente modo di lavorare alla nuova stagione, la scenerità un teatro in gran funzione, c'è tuttora una bellissima collaborazione, una bellissima transizione, cosa veramente rara nel mondo dello spettacolo, quindi grazie all'amministrazione e grazie a Luigi per questo passaggio. Auguri a tutti voi.